Ennesima operazione condotta dagli uomini del commissariato di polizia di Sant'Agata Militello nell'ambito dei servizi specifici contro abigeati e macellazione clandestina a tutela della salute pubblica e della sicurezza alimentare. Scoperto e sequestrato un casolare in muratura adibito abusivamente a caseificio in un'area tra i comuni di Longi e San Marco d'Alunzio. Gli agenti hanno trovato il locale in pessime condizioni igieniche, con secchi pieni di latte appena munto senza alcuna protezione, sporcizia nei contenitori non idonei per la produzione del formaggio, sacchetti e barattoli vari. In un altro locale, all'interno dello stesso casolare, è stata quindi scoperta un asse in metallo con ganci in acciaio per appendere la carne, con ogni probabilità adibito alla macellazione clandestina. Dai successivi accertamenti amministrativi è quindi emerso che il titolare non avesse alcuna autorizzazione per la produzione di prodotti lattiero caseari, né tantomeno per la transumanza o macellazione. L'allevatore, che gestiva il caseificio di fortuna, teneva inoltre nella struttura sei bovini privi di sistema identificativo e mai sottoposti a controlli sanitari. Gli inquirenti sospettano si tratti di potenziali proventi di abbigeato. Sotto sequestro sono così finite decine di fascine da ricotta e formaggio in genere, nonché tutti gli utensili usati per l'attività casearia. L'allevatore è stato denunciato per macellazione clandestina di animali, produzione e preparazione di carni in luoghi diversi dagli stabilimenti o locali riconosciuti, ricettazione, impiego per la preparazione di alimenti di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione e detenzione di sostanze alimentari pericolose per la salute. I poliziotti hanno inoltre trovato 15 provette per prelievi ematici, generalmente in uso al servizio veterinario, 32 aghi da provetta, farmaci veterinari e antibiotici senza alcuna prescrizione medica, boli endoruminali e marchi auricolari. Effettuati i prelievi di latte al fine di sottoporre i campioni ad analisi batteriologiche per la ricerca di brucellosi ed eventuali altri contaminanti batterici.